Amici appassionati di basket, eccoci qua con l'MVP della partita tra la Tireno Power Vado Ligure e l'ABC Varese, vinta tra l'altro dall'ABC Varese. Stiamo con Mohamed Toure, Mohamed leggo qui le statistiche, 15 punti, 3 assist, 4 rimbalzi, come vivi questo momento? Per me questo è un grandissimo momento anche perché non mi aspettavo di fare una prestazione simile dopo la partita di ieri che sicuramente non è stata delle migliori e per fortuna sono stati i bravi miei allenatori, miei compagni ad aiutare a caricarmi e quindi alla fine sono entrato più carico, più deciso del solito e tutto è venuto da solo. Domani le attesissime finali di CDP Dilettanti, come ti senti ovviamente per affrontare questo impegno? Ovviamente per le finali di domani sono molto carico, ovviamente non sappiamo com'è la nostra avversaria però cercheremo di dare tutto per tutto per portare a casa questa Coppa Italia, visto che secondo me per il lavoro che stiamo facendo in palestra, secondo me possiamo meritare questa Coppa Italia. Domanda con un piccolo pronostico, chi ti auguri di incontrare tra Chieti e Marostica? Chieti Perché? Da quello che mi dicono sembra essere la meno forte rispetto a Marostica Perfetto, ringraziamo Mohamed Turelli e troviamo in bocca al lupo per le finali di domani. Bocca al lupo Mohamed Turelli